Io sono Alessandro D'Agostini, la terza generazione di Hi-Fi D'Agostini, non per replicarmi, negozio storico ormai di Roma, abbiamo aperto nel 1967, sono appunto come dicevo prima la terza generazione, siamo qui al Roma ai Fideli di 2019, per l'occasione presentiamo impianto Dinaudio con le nuove Confidence 30, amplificatore Hegel H590 con lettore CD Moican e cavi cord e per l'occasione appunto sono intervenuti direttamente Hegel e cord mandando due dipendenti appunto a darci qualche chicca che non sapevamo. Hai anche un altro spazio espositivo in questa fiera? Esatto, in questa fiera c'è un altro spazio espositivo, è al piano zero e abbiamo portato tutta la serie Formation di Bavure Wilkins, quindi con le duo, la soundbar, le flexi, il wage e tutto quanto e il televisore Philips OLED che appunto fanno in collaborazione con Bavure Wilkins, quindi abbiamo voluto fare una parte un pochettino più dedicata anche allo smart, chiamiamolo così come va di moda oggi. Per chi vuole venirti a trovare, dove siete? Saremo ancora non per molto, questa è una novità che stiamo presentando anche qui su Via Prenestina, da soli 53 anni al Civico 220 che rimane a altezza Pigneto, per aprire in primavera prossima in zona vicino Villa Panfili, un nuovo showroom di cui vi parlerò dopo. E che vi iremo a trovare prima possibile ovviamente? Assolutamente sì, più siamo meglio stiamo. Allora questo nuovo progetto appunto come terza generazione l'ho intrapreso io, diciamo sono la parte giovane del negozio e abbiamo avuto la necessità di dare ancora di più al nostro pubblico che ce lo chiedeva, aprendo uno showroom completamente differente, saranno ben 400 metri quadri distribuiti su due livelli, un pian terreno più un primo piano, dove avremo diversi tipi di sale, partendo da una sala più importante, chiamiamola tra virgolette auditorium, una sala di circa 76 metri quadri, che ospiterà ovviamente impianti stereo radio importanti e impianti Dolby Atmos importanti, con anche proiezione per tua infinita gioia Emilio. Evviva! Evviva! Dopodiché ci sarà una piccola sala cuffie, ecco la possibilità di scegliere e provare tutte le cuffie che saranno a disposizione, una sala prettamente stereo e una sala completamente domotizzata, più tutto uno spazio espositivo. Cosa molto importante, al piano terra ma soprattutto al primo piano ci saranno anche gli uffici di un architetto e di altre figure che ruoteranno intorno a questo showroom. Questo per dare a 360 gradi dalla progettazione all'installazione, alla realizzazione di impianti stereo piuttosto che audio-video, nelle migliori performance possibili, collaborando con le aziende più importanti che metteranno a disposizione impianti importanti, trattamenti acustici, eccetera, eccetera. Il primo piano ospiterà anche una sala riunioni in modo tale che potremmo fare degli eventi sia mondani, passando il termine, sia formativi, quindi con tutti i nostri installatori che girano intorno al nostro punto vendita avranno la possibilità di essere sempre più formati, avranno la possibilità di dare sempre un servizio al massimo che vogliamo dare ai nostri clienti che vorranno venirci a trovare in modo tale che continueremo a dare ciò che per noi è lo sconto più importante di tutti, ovvero sia la professionalità. Fantastico, non vedo l'ora anche di organizzare subito qualche evento presso questa sede, è molto interessante, meravigliosa. Quando? Assolutamente sì, ora è un palazzo un pochettino grande, come dicevo, quindi abbiamo un pochettino di problemi burocratici, però in febbraio inizieremo i lavori, contiamo in tre mesi di finire, quindi sarà tutta una struttura ex novo, per poi fare una bella apertura per tutti a settembre, vediamo insomma. In bocca al lupo e a presto, prestissimo. Crepe il lupo, ben volentieri, vi aspetto a braccia aperte. Grazie.